a Salerno. Sì, è una scelta fatta già da tempo che ha avuto successo, per cui noi siamo contentissimi di continuare il rapporto con la città, con le istituzioni, con questa nuova formula di mostra e investire di nuovo la bellissima sede di Palazzo Fruscione. Per questo periodo estivo la mostra con gli eroi e i supereroi della Marvel, speriamo che possa interessare tanti salernitani ma anche i turisti e i visitatori che saranno in città per l'estate.